Iniziativa solidale in favore dei cani abbandonati da parte dell'assessore alle attività produttive di Cervetri, Luciano Ridolfi. Come promesso dagli organizzatori dell'International Street Food che si è tenuto qualche settimana fa a Cerenova, è stata fatta una raccolta a fondi donata all'associazione SOS Cuccioli, che hanno, come si vede da queste immagini, acquistato pacchi di mangimi per gli amici a quattro zampe. Abbiamo voluto con questa prima iniziativa cominciare a divolvere una parte dell'utile della manifestazione che andremo a fare a quelle associazioni sul territorio che fanno tanto volontariato e vengono poco attenzionate e hanno bisogno veramente di aiuto. Ringrazio io l'organizzazione Street Food International che ovviamente è stata partecipe di questa operazione e ha voluto fare un atto di condivisione importantissimo, noi sappiamo che sul territorio di abbandoni ce ne stanno tantissimi, quindi aiutare queste realtà significa poi aiutare un po' anche noi stessi e dimostrare che poi una festa ha un buon risultato quando all'interno contiene anche qualcosa di sociale, qualcosa di veramente utile.